Che cosa voglio fare oggi? Oggi ho deciso di chiamare appunto Sabacco, Michele e Caverna per parlare delle nostre opinioni impopolari, ovvero quelle opinioni che vanno controcorrente, contro quello che pensa la massa, opinioni che ci hanno anche fatto odiare dai nostri amici o che all'interno di una determinata community hanno creato disagio, sconforto o offese multiple. Ciao Michele, benvenuto. Oddio, ho questo occhialala venditti! Praticamente ho deciso di fare la figata per il content, ma l'ho fatto solo per internet, l'ho fatto solo per internet, sto andando a far cambiare le lenti dei miei occhiali e ho scelto il muletto più diverso e pazzo che ho trovato nel negozio. Beh invece ti dona in realtà, è molto ogni tanto, ma scusami. Vabbè il colore è un po' eccessivo. Intanto che aspettiamo Domenico, vuoi spiegare del perché quasi non si è fatta questa live? Perché prima ho spiegato che per tutto il giorno eravamo indecisi. Potevi farla senza di me. Impossibile, impossibile. Beh, allora, a seconda di quanto memare, quanto essere seri, ti potrebbe passare dal ragazzi non ho il merda gusto a effettivamente il mio di riflettere per ore dopo la richiesta di Dario nel cercare un'opinione contro tendenza che mi potesse mettere nella posizione di avere la maggioranza contro. e ci ho provato in tutti i modi, facendo diversi audio proprio al nostro gruppo, dicendo, ok, ok, ho pensato questo, 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 no, questo è polarizzante, non è controcorrente, c'è un po' 50-50, no, questo mi renderebbe un figo, questo, questo e quest'altro, e durante un audio ho avuto un'epifania. Non riveliamo, esatto, 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 esatto. Diciamo che c'è stato, io ero lì che insistevo, Michele, dai, non è possibile che tu non abbia una cazzo di opinioni popolari, ce l'hanno tutti in opinioni popolari, Caverna subito, sì, 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 ci sono io stasera, ci mancherebbe altro. Pronto. Però volevo un'opinione popolare videoludica, perché te ne hai anche un'altra manga, però magari la, diciamo, ne parliamo anche di... La ti accenna al massimo. Sì, 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 io direi di iniziare, iniziamo io e te, sull'ambito videoludico, iniziamo proprio face to face, allora, qual è la tua opinione impopolare videoludica? Ah, partiamo quindi subito rivelandola. Eh, certo, sì. Va bene, ragazzi, la mia opinione che difenderò con sangue, anima e spirito è che non è vero, non è vero, Final Fantasy VIII non è una merda, è bellissimo, Final Fantasy VIII è prezioso, è meraviglioso, santo, sacro. Te cosa ne pensi, Domenico? Amici mai, per chi si ama come noi, non è possibile. Ciao. Perché c'hai gli occhiali all'Antonella Venditti? Eh, glielo ho chiesto a chi un po' fa. Ormai il personaggio Sabaku è talmente scolpito all'interno di determinati elementi che non riusciamo a vederlo con altri. Comunque, l'opinione popolare di Sabaku è Final Fantasy VIII, non è una merda, anzi, è bellissimo. E perché? Allora, diciamo che secondo me buona parte dell'iniziale infantil odio che riceve il capitolo è perché all'epoca eravamo tutti stupidi, o erano tutti stupidi, a questo punto mi escludo, così faccio più il gradasso, e non sapevano usare il junction. E quindi gli è rimasto di traverso e lo odiano. Quindi era troppo complicato costruire il personaggio. Poi si potrebbe approfondire, ma no, no, oggi ho questi occhiali, e devo essere assolutamente imprescindibile. E poi, perché aveva una trama molto più inizialmente realistica e legata terra-terra a quello che è il rapporto tra personaggi necessariamente meno eroici rispetto al passato, che poi prende una piega eccentrica, molto eccentrica, e che quindi ha fatto sì che si passasse da magia e fantasy a tecnologia e sci-fi, con poca magia, fino all'ultimo, che poi invece esplode, creando diverse, quello che potrebbero essere definite nel mondo moderno dell'appassionato a GRPG, nomurate, che hanno creato, quindi, un po' un eco del passato, futuro, e ho usato questi termini confusi per mimare per il Fantasy VIII, e ancora non se lo ricordano tutti, ossia il CD4. Ah beh, ah beh, sì, 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 lo ricordo anch'io. Il discorso è che questa è l'unica opinione mezza impopolare che abbiamo trovato in Michele dopo un pomeriggio di ricerca. Ragazzi, è stato difficilissimo. Secondo me, io te l'ho detto, secondo me era più impopolare l'altra videoludica di cui abbiamo parlato, che magari... Possiamo parlare? Sì, 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 certo. Sono curiosi, sono curiosi. In realtà, dei tre, della tripletta, ecco, PSU, 3D per PS1, lasciando stare Origins, lasciando stare Anthology, lasciando stare, diciamo, tutte le riproposizioni che sono state fatte su PS1, dei tre, effettivamente, l'otto anch'io nell'adolescenza era quello che subiva più per culi e sberlefi. Ma no, oggi peggio. Oggi peggio? Non avrei detto. Oggi se fai la lista di Final Fantasy, fai Final Fantasy 6, 7, 9, 10, 12, cioè lo salto, non esiste. Che peccato. Che apocrifo praticamente per i fan. Infatti, è vero, sono d'accordo. Invece te lo reputi veramente bello, ma perché comunque per te è un Final Fantasy a 360 gradi, al 100%, forse anche meglio di altri quindi per te, più blasonati. su alcuni punti di vista è ovviamente il fatto che ci ha, mi ha in parte formato. Io sono cresciuto con Final Fantasy 8, è stato il mio primo Final Fantasy, quella è la classica punta al cuore che non rimuovi invecchiando mai, al massimo ti ci affezioni ancora di più, più lo conosci. però il fatto non è tanto che sia il migliore, ma che le persone lo hanno etichettato come malscritto, superficiale, noioso, monotono e piatto, per delle ragioni, con delle basi, ma sottovalutando il rigiocarlo magari da adulti e scoprire come effettivamente quei personaggi in realtà non siano assolutamente così piatti come sembrano, anzi, anzi, sono particolarmente veri, a parte qualche piccolo, piccolo buchino di trama che non discuteremo oggi. Sono d'accordo con te e secondo me banalmente il fatto che sia stato vituperato dalle community più che altro internazionali perché comunque in Italia dato che comunque Final Fantasy era una novità diciamo sulla PS1 e poi era il primo in italiano cosa vuol dire per un ragazzino. Quindi in Italia diciamo che ha avuto anche un destino diverso, strano, ma ci sono questi eventi speciali diciamo eventi strambi rispetto alla community internazionale che crea anche affetto in uno stato piuttosto che in un altro e secondo me banalmente veniva dopo il 7 che è stato adorato alla follia e amato per determinate cose e l'8 quelle cose diciamo che le introduceva e non le introduceva le rivoluzionava e le cambiava quindi era difficile concepire un Final Fantasy diverso dal precedente perché comunque era così. Ed è diversissimo l'8 era così. Però il triple triad è dentro importantissimo il gioco di carte però era anche secondo me bisogna riflettere sul concetto di saga perché Final Fantasy 6 è diverso completamente dal 7 l'8 è diversissimo perché è una serie esatto e questa cosa non era così accettata cioè in Giappone magari sì cioè guardate questo capitolo come un capitolo a sé poi l'universo è condiviso tra virgolette però state attenti quando giocate un Final Fantasy avete qualcosa di diverso in mano qualcosa vogliamo toccare sempre corde diverse questa roba è stata digerita col tempo e con anni anni ma oggi quando si cita Final Fantasy c'è chi chiede ma lo capisco se gioco quando esce il 16 lo capisce perché non è come pensi e io non vedo l'ora di giocare il 16 perché sembra totalmente diverso da tutto quello che abbiamo visto in precedenza anzi sembra tornare alle atmosfere cupe medievali con gente dietro mi sembra figo è uno sviluppo più oppure lo steampunk del 6 molto bellissimo cioè veramente bello bella una bella saga anche se la politica del 12 eh sì bello bello ma io sono sempre stato nell'altra parrocchia lo sai bene però Final Fantasy totalmente rispetto ti dirò io ho scelto Final Fantasy 8 perché è l'insalvabile che bisogna salvare per amore ma una delle unpopular opinion su Final Fantasy è che il 12 sia terribile e io lì sarei molto più netto cioè giocatelo negli end Final Fantasy 12 è stupefacente è bellissimo io per esempio non l'ho mai toccato Final Fantasy 12 è tra i migliori capitoli mai prodotti cioè Final Fantasy 12 è uscito in un momento nel quale c'era la separazione Squaresoft l'ansia anche la separazione c'era l'unione Squaresoft-Enix quindi creando Square Enix e aprendosi al pubblico con Unlimited Saga e quindi diciamo che l'approccio iniziale era abbastanza traumatico e Final Fantasy 12 non era piaciuto per nulla per diverse ragioni non c'era la love story era estremamente più freddo politica dappertutto Star Wars esagerato e così via non mai giocavo esatto Final Fantasy 12 è difficilissimo da capire da piccini da una parte perché hai un oggettivo fattualissimo due di picca al protagonista che ci prova con la principessa e viene slobato fino alla fine non ottiene nulla di romantico Final Fantasy 12 nei confronti del protagonista a differenza di qualunque quasi altro e soprattutto ha una storia complicata con un antagonista che non è un super mago malvagio superiore all'entità umana base che vuole distruggere il mondo cambiare le sorti dell'universo è un politico con delle idee antagonistiche ma delle basi solite su cui farle effettivamente progredire nella sua idea e quindi tipo guarda che è meno complesso ma prima un po' lo giocherò allora non l'ho mai toccato dovrei dovrei è fantastico e la remaster risolve anche un problema di gameplay gigantesco creando una bella costruzione del job system che esiste nella versione international che è poi quella rimasterizzata ok figo prego caverna tocca a te molto bene allora ti ringrazio prima di tutto dell'occasione finalmente per riabilitare l'immagine di un manga fin troppo bistrattato ai occhi del grande pubblico e cioè Naruto lo sapevo lo sapevo ti piace Shikuda lo sapevo a voglia a voglia a voglia a voglia a voglia calma 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 perché se c'è una cosa che effettivamente nemmeno io digerisco molto ma fa parte più che altro del sequel cioè di Boruto ritengo che tutta la parte di quando loro diventano grandi riciassettenni e c'è la quarta guerra mondiale dei ninja secondo me quello è un momento molto forte molto importante per tutta la storia di Naruto era inevitabile che qualche personaggio venisse perso lungo il cammino alcuni avevano già esaurito la loro storia tipo Neji Neji è un personaggio che era finito durante la saga di selezione dei Chunin aveva veramente molto poco da dire è un peccato che sia morto in quel modo durante la guerra spoilerino però vabbè solo così si sarebbe potuto liberare dalla maledizione che ha per via del fatto di essere della casata cadetta non c'era altro modo però tutti gli scontri con i sette spadaccini resuscitati l'armata degli zetsu bianchi Asuma Sarutobi che viene resuscitato e Ino, Chika, Jo devono combattere contro il loro maestro insomma tutte queste cose è un grande amore è amore si vede è bello per forza Domenico è fan service la storia di Nato del full bringer di Bleach no non mette aspetta una cosa per volta la sarà il full bringer è perfetta finalmente senza poteri loro con gli oggetti cose così quella nella casetta bellissimo bellissimo non ci sta una cosa più bella di Bleach non c'era una cosa un po' troppo caverna secondo me un po' troppo allora Naruto Naruto racconta una cosa sola cioè i legami come funzionano i legami io dipendente subdomio dipendente da questo come ritornare a uno status quo parlando di legami e il modo migliore che c'era era far resuscitare tutti quelli che erano morti e mettere i personaggi di fronte alle loro incapacità di fronte magari anche alle cose che hanno migliorato di se stessi e farli combattere tra molte virgolette con il loro passato accettare e andare avanti perché poi Naruto è tutto questo parla appunto di cicli anche di reincarnazioni è sempre questo il tema portante quindi la guerra mondiale secondo me che serviva proprio a questo cioè a sganciare i personaggi a delle situazioni emotive precedenti lo fa benissimo allora io posso anche capire questa cosa del confronto col passato perché comunque c'è sempre il discorso del maestro l'eredità il passarsi un potere un passarsi anche un messaggio una convinzione tutto il problema è come viene narrato da Kishimoto cioè la scrittura di Naruto a un certo punto da epica drammatica da questa continua rivalza che permea un po' tutti i personaggi secondari primari soprattutto i secondari su cui Kishimoto veramente aveva fatto un lavoro eccezionale anche all'inizio dello Shippuden anche nel corso della prima metà dello Shippuden va a farsi fottere quando decide di mettere tutto tutto quanto quello che gli viene in testa all'interno appunto anche della guerra ma non solo secondo me e quindi quello che si ottiene non è più un approfondimento certosino mirato chirurgico su quei personaggi e su quei valori ma hai una grossa zuppa di roba che se affrontata in maniera più ponderata e soprattutto andando a sottrare qualcosa sarebbe veramente emersa in maniera più prepotente il problema è che hai questo pappone e non riesci più a digerirlo secondo me a un certo punto quando invece c'era una base solida delle fondamente veramente solide all'inizio di Shippuden ma ci sono già secondo me l'errore che facciamo in generale nell'affrontare quella saga è che pensiamo che quei personaggi non abbiano tutto il passato che hanno già vissuto loro sono stati già tutti quanti costruiti c'erano già quella base solida e forte e per questo che poi dopo potevano soltanto combattere contro lo specchio dei loro vizi lo specchio delle loro ambizioni i maestri e poi i maestri non vogliono nemmeno combattere con loro diventa un'altra occasione per farli crescere perché loro naturalmente sono stati resuscitati contro la propria volontà ci sono anche i kage precedenti che dicono ragazzi dovete attaccarmi in questo modo perché sennò non mi ammazzate te l'ho detto secondo me è perfetto il fatto sempre di avere un maestro che abbandoniamo il passato per crescere e diventare noi quei maestri per me quella roba va benissimo alla fine Naruto è sempre stato eredità io eredito quello che tu mi hai lasciato pensa anche al rapporto tra Itachi e Sasuke quella roba lì è proprio l'esempio perfetto il problema infatti quello scontro è bellissimo il problema ti ripeto è come poi lui ha deciso di narrare tutto questo e poi l'ultimo scontro secondo me è veramente delirante con quel cuore cioè quelle robe lì era un po' troppo too much Kishimoto però per il resto fino a un certo punto era molto meglio di One Piece cioè aveva preso voleva sì 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 probabilmente sì era molto molto meglio di One Piece infatti poi One Piece dopo ha detto vabbè lo devo fare come Naruto perché devo recuperare l'eredità devo prendere l'eredità perché sì è vero il cappello che si tramanda questa roba sì sì ma poi quel cappello diciamo che è la goccia dell'oceano perché sì effettivamente ha spada di Zoro e lui porta la volontà praticamente al fianco Sanji che deve cioè tutti hanno un'eredità insomma o il destino di personaggi vuoti non erano niente si divertivano poi adesso tutti importantissimi hanno qualcosa da dire eh sì 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 no vabbè ok diciamo che non sono d'accordo capisco la tua intenzione la tua buona volontà di riportare più grande oggettivo più grande ah proprio oggettivo vabbè essere oggettivo allora mi chiede qualcosa da dire magari vuoi dire qualcosa che te ma prima mi ha fatto una domandina sui full bring sì dopo una cosa alla volta che ho già treccato mi sa che non gli è piaciuta quella saga allora è tutto molto difficile è tutto molto difficile ora sono stanco sono già stanco allora allora con calma vedrai che dopo ti do il corpo di grazia te lo dico Michele preparati perfetto ottimo una cosa alla volta però perché altrimenti non ci arrivo domani allora mettendo giustamente un paio di manine necessarie avanti presupponendo che la ricerca di simbolismo religioso mitologico umano spirituale di Kishimoto in Shippuden sia effettivamente bellissimo e va bene d'accordo e che tutto ciò che ha detto Caverna nei confronti del messaggio come tu Dario prima è assolutamente reale perché Kishimoto il talento ce l'ha e ne ha avuto nel cuore e lo ha tenuto forte certo cioè è un termine che non ho sentito discutere né da te né da lui un termine che adesso poi si può anche andare ad approfondire leggermente pochissimo il resto ossia la tecnica proprio di di sceneggiare quegli eventi e farli solo accadere o pensare che solo perché un personaggio apparentemente ha detto tutto allora debba essere continuamente messo lì in mezzo senza che dica nulla però il world world building il world fucking building ragazzi nel momento nel quale tu mi dedichi anni e anni e anni e anni a costruire delle regole un sistema globale di poteri fisica corpi gerarchie un minimo di logica e situation awareness in un combattimento non si non puoi fare Shippuden la seconda metà di Shippuden non puoi non puoi non puoi fare questo anche perché poi in realtà è il combattimento finale di Shippuden ma quello finale 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 non parlo del dio contro tutti prima specialmente nell'anime è qualcosa di molto molto ben fatto all'istoria dell'animazione giapponese dello shonen manga però ragazzi il problema di Shippuden uno dei problemi no no ma il world building secondo me soprattutto e su questa cosa io io ho dieci anni che la ripeto soprattutto i personaggi secondari l'ho detto anche prima che era la vera forza di Naruto perché o Naruto insomma che dirsi voglia perché erano tutti veramente bellissimi e i loro poteri erano così diversi tra loro che li rendevano veramente un parco di personaggi secondari preziosissimo che poi viene regolarmente sminziato e ogni tanto vengono recuperati così a buffo tanto per far ricordare alla fanbase che esistono ci sono ecco i personaggi li ho creati ci sono ancora però quella roba è brutta cioè non diciamo che lo so però stiamo anche parlando di una guerra mondiale dove le forze in gioco sono i cercoteri le mostre con le forze si ma è stata una scelta sua è legato i cercoteri sono cazzi di Kishimoto mi ha inventato lui però non esistono il mondo reale sei un cazzaro se tu passi dal fare come base narrativa di rendere dei prescelti dei geni degli esseri speciali dei ragazzini che riescono a superare gli adulti attraverso queste magie pazzesche e poi in realtà è il minimo comun denominatore per i scontri successivi senza contare senza contare il focus sul Sasuke assurdo che a un certo punto ti fa dimenticare tutto il resto il messaggio principale di Naruto si capito gli interi sto per dire una cosa normi il resto no ora dico la cosa normi ma la cosa più normi possibile che si può dire nei confronti del che cazzo hai fatto Kishimoto in Shippuden è che il messaggio principale di Naruto come personaggio come manga come brand è il bambino da solo sull'altalena maledetto da qualcosa che non comprende che riesce a superare gli ostacoli con la propria forza d'amore e di volontà e di carisma proprio spiritualmente positivo lui è una persona buona e riesce a circondarsi e a cambiare il male negli altri attraverso la sua esperienza di dolore no 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 è la reincarnazione di Cristo per questo il suo destino era di salvare tutto il mondo a proposito mi sembra un po' fallace questa interpretazione Naruto nel primo capitolo viene detto che è posseduto dallo spirito più forte di tutti non lo so mi sembra che già dall'inizio è sculato cioè non lo so questa cosa finale di lui che sia però però caverna però non sono delle reincarnazioni tipo è più come se fosse una predestinazione e va bene ma avessero scelto loro ma la forza non è una predestinazione ma poi soprattutto aspettate perché vi state confondendo su una cosa soprattutto quel potere è così grande da non essere controllato alla perfezione dal personaggio lui ci mette una vita e poi a un certo punto Dio e Genki Dama ne avvisa la gente all'improvviso va benissimo però insomma adesso sono diventati forti sono diventati forti ma fa un mucchio di cose combatte anche contro un se stesso negativo deve imparare a controllare si scopre a un certo punto pure che c'è una tipologia di chakra che lui aveva tipo il chakra del vento una cosa del genere poi dopo quella cosa si si chiaramente la rotazione quello è come c'ha i capelli di creare altre linee narrativi chi mette la mano altra bullshit il fatto è questo il fatto è questo è esattamente ciò che accade in tanti shonen manga se tu necessariamente hai tutto il tempo e la volontà dell'editore di scrivere cose così prolisse è ovvio che a un certo punto uno può dire beh figa ci ha messo vent'anni a imparare il potere grazie al cazzo è stato necessario farlo affinché potesse vendere abbastanza da poterlo ottenere quel potere e avere lo sconto finale ma non è che se fai la quarta guerra mondiale dei ninja hai necessariamente bisogno di prendere tutto il build up e la costruzione del precedente manga e dire comunque adesso esistono cazzate come molto chakra non serve più perché è infinito e soprattutto sappiate che la base di potere non è più quella dei ninja ti ricordi allora Naruto e Sasuke diventano forti nello scontro sul tetto quando rompono bellissimo quella è la forza quella è la forza di Naruto si arriva da quello a ti ricordi quando all'esame Chunin dicono comunque se apri le otto porte diventi più forte di un Kage che cazzo dici che un ragazzino qualunque è più forte di un Kage in qualunque momento dal momento in cui Shippuden diventa importante e poi quando aprono le otto porte distruggono paesaggi guarda io sono molto bellissimo ma perché è diventato Dragon Ball a te piace perché è diventato Dragon Ball esatto questa è proprio questa cosa qua è proprio Dragon Ball cioè è quello scusate ma quello c'ha il color scheme di Gogo non è che è un altro personaggio è un altro personaggio per D è sempre vestito di blu e arancione io con gli anni mi sono molto ammorbidito nei confronti di Naruto ma continuo a sostenere che a un certo punto Kishimoto non so perché non so se è per colpa degli editor di Shuesha non so perché se magari si era rotto i coglioni lo scopriremo solamente vivendo fatto sta che lui ha dato un'accelerata totale alla storia e ha iniziato veramente a perdere di vista i fili che poi avevano reso Naruto quello che era perché su questo siamo d'accordo la seconda parte è molto rasciata e poi insomma si vede evidentemente che il nemico poi deve spostarsi che disegni la storia vera sono loro eh vabbè molti disegni vabbè tanto molti disegni li ha rifatti comunque per l'uscita in Tankobon quindi si risolve però sì in generale inquadrature un po' riciclate bruttarelle soprattutto un po' prima della battaglia Naruto Sasuke comunque vabbè adesso spezzo una lancia a favore di Sabago è così grazie perché perché veramente solo uno come Kishimoto poteva pensare che il sogno di Naruto era prendere il posto fisso lo statale è vero questo l'hai detto che noia è che lui è diventato il sindaco cioè il mio sogno è diventare il sindaco del villaggio fa le multe le cose Naruto che prima spaccava firma le patenti il prefetto devo fare le carte una noia incredibile un pazzo è normale che il figlio deve odiarlo secondo me ha fatto apposta invece Sasuke è il numero uno va lascia la moglie a casa si leva dal cazzo va nelle foreste Goku Goku via ciao allora do il colpo do il colpo di creazione a Michele allora premetto che questa è la mia personalissima opinione dato che questa forse è l'opinione più impopolare di tutte quelle che avete detto per essere insieme a mio parere escluso Bloodborne la saga dei Souls non è così un capolavoro in che senso ma intendi come storia o come gameplay forse come gameplay potrei pure capire nel senso oggi no no vabbè abbiamo delle opinioni diverse quindi capiamo secondo me è chiaro che un gioco come Dark Souls deve puntare molto sulla difficoltà perché oggi non è vero ma ancora adesso mi spammano 700 attacchi mai visti in Bloodborne non ho mai visto mi spammano delle cose assurde cioè perché oggi è facile basta che ti fai uno dai Michele sai tutto il gioco subito meglio alzare l'asticella della difficoltà nel primo nemici che trapassano le pareti no dai quello è un problema tecnico ma fixalo nella remastered fixalo ma anche la remastered l'hanno fixato ovvia hanno fatto miliardi è per buttarli in culo ai giocatori a noi grazie Davids abbi pazienza comunque ma poi Michele una mappina una mappina me la potevano mettere una mappa almeno nel terzo non è un metrogenia una bella mappina così per capire dove vado e che design bestie la mappa non ti serve la mappa non ti serve adesso quasi sempre delle cose dritte per finire il gioco non è che secondo me non ti serve tanto la mappa se vuoi esplorare si ci perdi tre ore un po' confusionaria l'esplorazione perché è bello no mi sembra cioè almeno per me no per me è tipo una cosa dritta ho capito ho capito vabbè dipende il primo non è così dritto dai è molto vasto ma no un po' salgi però non è che serve la mappa almeno no eh e poi ci sono troppe parti try or die cioè non è giusto cioè si fa si fa eh no questo è vero eh no Michele nel primo poi ne parliamo no anche nel primo anche nel primo si fa tanto cioè io che non posso toccare nemmeno un NPC che questo si ah ti spacco il culo ma che cazzo non posso ammazzare ma poi Michele dai vogliamo parlare del fatto che se per sbaglio com'è successo peraltro a te per sbaglio ti scappa un tasto e ammazzi un NPC rovinata rovinata la RAM per sempre oh bisogna rinominciare ragazzi bisogna rinominciare perché ha ammazzato per sbaglio un NPC hai perso la subquest no perché te praticamente tu non hai capito che dovevi andare in quel tunnel l'anello del gatto ti permetteva di prendere un anello che ti faceva accederare e adesso ha perso la subquest è toccario vicià per forza se no dovevi farlo è cazzo qua le subquest non sono proprio con i neskit stellari no sono d'accordo però è una cosa discutibile diciamo supportabile in mezzo a una marea ristronzata poi anche quel cazzo di serpenti cosa fa ci va un ci va quando ci va mi butto un mi butto cosa ci devo fa con questi serpenti ma te dovresti leggere ho capito ma poi forse anche chiaro ma non è vero non devi leggere niente come non devi leggere niente devi interpretare supporre e beh quello non serve leggere ho capito ma questa cosa la capisco in Zelda quando intuisci che attraverso quell'interruttore si può accedere ma io non è che posso ricordarmi tutti quei nomi strani per poter accedere a quell'aria prima del tempo perché sennò perdi la subquest e sono cazzi tua così non è giusto sei un bastardo è troppo punitivo e dai che hai fatto vado in giro col taccuino per segnarmi le cose dai no glielo di perché lui 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 se ne segnava davvero sul taccuino quindi gliele poti queste cose va bene alla Michele contrastami però ok vabbè allora Dark Souls non è trial and error ok in quanto ti faccio un esempio basilare tra un videogioco trial and error e un videogioco che utilizza la difficoltà in maniera diegetica come esperienza del mondo che ti circonda cioè una conseguenza del mondo di gioco e non del game design che vuole vendere come ha fatto Bandai Namco col merchandise prepare to die you died I didn't die I survived staccazzate quelli sono il merchandise il gioco non si pubblicizza come gioco difficile perché tale se tu vai per esempio alla fortezza di Sen che è ad esempio lampante come la torta con le frazioni e hai dinanzi a te un corridoio con dei fori sulle pareti laterali e un grosso pulsante al centro rialzato un altro video insomma una sorta di trappola e la premi e dai fuori escono delle frecce e muori potevi fare due conti prima di saltare sulla trappola tuttavia molti videogiochi che utilizzano la difficoltà come base per essere interessanti come meccanica trial and error che esistono e non è un difetto di base se fatto bene nella logica che vuole essere utilizzata nel gioco non ci sarebbero stati i buchi intorno alle pareti sulle pareti laterali che ti avrebbe impedito di capire dove sarebbe arrivato il presunto pericolo ti faccio un esempio e per quanto riguarda la gestione della mappa della sua assenza Dark Souls 1 è molto denso le aree sono estremamente vicine l'una all'altra anche in maniera topograficamente realistica ma in una scala corretta che ti permette di creare la mappa mentale e svelare i segreti di un'ambientazione senza avere quel tipo di meccanismo di esplorazione che è tipico di un altro genere il metroidvania che è lì per un motivo come per esempio l'ampiezza è il fatto che avendo camere stagne con un determinato tipo di completismo in ciascuna di esse necessita quel tipo di esposizione che altro dimmi nel senso a livello di a livello di dare valore a Dark Souls Dark Souls è stato praticamente come prendere a livello macroscopico un'auto che stava andando tragicamente fuori strada e darle un colpetto attraverso il quale nella lunga distanza rimetterla in carreggiata sto parlando proprio praticamente dell'industria videoludica di un certo tipo perché poi il resto ovviamente è macroscopico Dark Souls non ha cambiato il mondo ma ha avuto un'influenza da sasso nello stagno che alla riva c'è arrivata come onda quello che ti permette di fare senza come diceva Caverna prima magari la guida che oggigiorno è un pochino una brutta maledizione del giocatore che tende a dire so che Dark Souls è un titolo difficile vado a vedere come funziona in realtà quello che è stato speciale per tantissimi è stato scoprire come in un contesto nel quale in settima generazione tutti i videogiochi erano incredibilmente lineari guidati soffocanti tanto che il meme principale era appunto quel video di Quake che ti faceva simulare una sorta di Quake 1 nel 2008 nel 2009 che praticamente ogni comando ogni tasto era inutilizzabile perché avevi soltanto una direzione guai a te se facevi altrimenti era lo scoprire un ambiente molto arcade nel quale ogni cosa che facevi era conseguenza della tua scelta sia di esplorazione sia di combattimento che di strategie nell'affrontare un ambiente una mappa una boss fight senza che queste fossero genuinamente artificialmente disoneste e ambientato in un gioco che si prendeva tremendamente sul serio dimmi allora quanto è disonesto che io sto in quella cazzo di foresta in Bloodborne passo senti un suono e ti arriva un cazzo di tronco nel petto ma vogliamo parlare ma vogliamo parlare anche dell'invario le invasioni sono la cosa più stupida e demenziale le invasioni non reggono più oggi non reggono più oggi hai ragione Dario caverna la trappola è a terra ma si ci sono delle travi ma sono travi ovunque ma è vero quelle sono diverse me lo ricordo ragazzo so esattamente a cosa ti riferisci guarda bene dove metti i piedi grazie Cerbero io guardo sì guardo intorno non è che guardo tutto però per terra sì ma tra l'altro posso tranquillamente rispondere assolutamente c'è un dettaglio a terra che ti porta a capire che potrebbe esserci qualcosa non lo noti non te ne interessi ci vai comunque c'è il tempo di reazione per schivare il tronco se sprinti sul ponte c'è una trappola sono anche cazzi tuoi lì è vero muori lo rifai non lo fai più la prossima volta ti guarderai intorno è un processo di apprendimento mi sembra un po' la definizione di trial and error no il trial and error è vagamente vagamente Kat Mario è trial and error no beh però Kat Mario secondo me potrebbe essere un un soul slide quello è trial and error no vabbè soul slide dai soul slide sì leggero allora le invasioni hai ragione Dario perché sono un meccanismo integrato per essere utilizzato a livello di design da personaggi ignari come te che ti affrontano e vanno a invadere altri mondi senza la volontà di cagare il cazzo senza la volontà di farlo in gruppo e metodicamente continuamente non ti dico se sei un personaggio pubblico ovviamente però è una meccanica che può essere stucchevole perché sei abusata però dio buono ah quando giochi online dici che ti invadono gli stronzi per romperti i coglioni per trollati non lo so per me le lame nella fortezza vera cosa il pet che ti assomigliano sono troppo strozze sarebbero stronze se a contatto ti danneggiassero ma non ti danneggiano a contatto ti buttano per terra ti buttano per la terra ti fanno far volo se vieni colpito lateralmente ma non davanti davanti ci puoi anche correre contro è quel tipo di differenza fra onestà e bullshit ma Dark Souls è importante non soltanto per il gameplay anche per la struttura di giochi come esponere l'esperienza videoludica al giocatore che lo rende completamente protagonista di tutto ragazzi come fate a non ricordarvi dei sabachini ci sono persone che stanno commentando che sono abbonate da due anni e mezzo e vi stupite che gli assomigliano è una citazione io li chiamavo sabachini so se vi ricordate però avete perso la memoria storica vi ricordate tutto di questo canale non quando giocavo a Dark Souls è stato il mio primo gioco credo secondo terzo gioco sul canale sì 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 dentro la cantina con il computerino a fianco era una specie sì 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 era così che ricordi va bene comunque Michele era chiaramente una trollata per farti tiltare è stato molto interessante lo so però è stato molto interessante e in qualche modo aiuta la circolazione però che apprezzo di più Bloodborne anche Sekiro se stiamo parlando di giochi from software rispetto a Dark Souls sì vabbè comunque sì devo dire che calcolare il peso dell'armatura pensare poi il Perry la dinamica del Perry l'ho sempre apprezzata meno rispetto invece alla fucilata che stunna il nemico e poi te gli fai una bella incicciata che dà anche molto più soddisfazioni secondo me chiaramente poi anche il Perry dà molte soddisfazioni però in tavola quando lo fai al maialone no? che gli fai il trame prostatico al maialone sì 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 se vogliamo utilizzare il contraltare e pungere Bloodborne il fatto che abbia delle meccaniche GDR che derivano da Dark Souls lo abbatte un sacco con quelle gemmine stupide quelle percentuali di parametria che lo rende estremamente prolisso se vuoi essere min maxato e così via Sekiro le toglie infatti no Sekiro è proprio action puro più dinamico certo è molto from software si capisce proprio si sente subito però ecco io per esempio Sekiro è il gioco che ho trovato più semplice in assoluto del brand che ho fatto tranquillamente a parte quel cazzo di demone per il resto l'ho infatti indovina un po' il demone è Bloodborne sì 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 devi cambiare completamente asset mentale però non l'ho trovato difficile invece molti che hanno che distruggono Dark Souls così a occhi chiusi prendono in mano Sekiro e hanno difficoltà è molto particolare questa cosa qua molto molto particolare poi è bella vabbè l'ambientazione medievale decadente però ho preferito sempre Bloodborne non c'è quel quel gotico quel è troppo più bello dai gli alieni cioè quella roba lì proprio lovecraft totale sembra gotico no? cioè sembra sembra in realtà in realtà in realtà in realtà è tutto molto giapponese no? quelli sono degli shrine dei templi i templi giapponesi poi cami sostanzialmente cami invisibili nelle creature volontà all'interno delle rune è bello ma anche il DLC è qualcosa di eccezionale una cosa proprio è fondamentale sì 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 ma già dall'inizio con la moonlight fino a quando arrivi all'ultimo boss su quella spiaggia cioè veramente è una cosa eccezionale per me è eccezionale è una cosa difficilissima dai infatti dei 3 Dark Souls il mio preferito è il 3 paradossalmente proprio perché un pochino non dico che vabbè richiama però richiama abbastanza Bloodborne e poi è più dinamico rispetto ai precedenti il 2 proprio lo trovo un gioco purtroppo questo sì lo devo dire in maniera sincera e schietta bruttino e il primo è iconico è bello un cult ancora oggi e nonostante i suoi difetti che insomma diciamo ci sono delle cose un po' invecchiate male però il 3 è proprio bello il 3 è proprio bellissimo però ora vediamo il The Ring vediamo che cazzo succede sono curioso dai però ecco persone in chat che mi chiedono la vera un popular opinion purtroppo la mia vera un popular opinion attualmente è stata condivisa da molti cioè che Marvel Cinematic Universe è una secondo me è una è una sola pazzesca però molti piano piano hanno cambiato la propria opinione dandomi ragione quindi non è più un popular secondo me come era un tempo ma sì adesso devi traslare alle serie devi traslare passa lì e così va eh sì non è mai stata secondo me una saga cinematografica ma una serie televisiva pubblicata distribuita al cinema ma una sola cioè una sola una gabbia dove ti infilano dentro dove ovviamente il main event è la guerra totale di Endgame ma per arrivare al main event ti devi recuperare tutto quello che hai visto in precedenza ora molti diranno ma non devi guardare proprio tutto però se non hai visto dei film secondari di cui non ti frega un cazzo tipo Ant-Man non lo devi vedere secondo me e però anzi fondamentale ma cosa me ne frega cosa me ne frega di Ant-Man cioè capito il discorso poi ci sono delle perle dentro ci sono i guardiani della galassia c'è il dottor strange molto interessante però poi mi fermo lì però non è pochissimi ci saranno quattro dei film come se fosse un problema per me è un problema andare al cinema a scoppiarmi dei film su supereroi di cui non mi interessano a sé che soprattutto compitini che non mi danno nulla e che soprattutto mi rovinano un po' la mia idea di cinema forse la fase quattro sarà ancora peggiore perché hanno disaurito le cartucce giganti non li guarda cazzi tu a chat di rosiconi bene diciamo che questa live è servita allora è davvero un'opinione a posto ragazzi ben tornato ok frusciante ma non è che frusciante è che mi garba cioè non mi garba la serialità al cinema così che ci devo fare si parla di opinioni impopolari se avessi voluto darvi contenti lui dicevo ah come bello Ant-Man madonna Black Panther una perla ma non è cioè per me Black Panther è una sola pazzesca ma non parliamo della vedova nera uscita ora insomma c'è della roba che via ragazzi dai poi alcune cose sono belle ci mancherebbe lo riconosco anche di Spider-Man non mi hanno colpito così tanto anzi il secondo poi mi ha lasciato proprio interdetto abbastanza e poi un'altra cosa a livello manga approfondisco un po' quello che dissi tanto tempo fa su YouTube che chi reputa Detective Conan noioso a mio parere non ha capito molto dei manga secondo me perché innanzitutto i casi Detective Conan nonostante sia anni e anni che va avanti non sono noiosi alcuni possono essere noiosi ma la maggior parte di volte sono veramente interessanti e divertenti intrattenenti comunque fa il suo sporco lavoro e poi soprattutto il problema di Detective Conan sul pubblico italiano si parlava prima di fenomeni tutti italiani rispetto magari ai fenomeni che si creano in madre patria è visto come noioso dal pubblico italiano perché siamo sempre stati abituati a una serialità giapponese soprattutto noi negli anni 90 non parlo delle generazioni precedenti che sono cresciuti con i robottoni e quindi c'era un mostro diverso da sconfiggere ogni puntata però noi siamo abituati alla serialità cioè una storia che va avanti continuamente a ogni puntata con un piccolo cliffhanger che ci porta la puntata successiva Conan non è mai stato così cioè Conan è stato prodotto e venduto in Giappone per essere eletto per i casi non per la storia degli uomini in nero la storia degli uomini in nero è interessante è carina è divertente ma non è quello quello su cui punta Aoyama quello su cui punta Aoyama è farti andare al combini prendere devi comprare la raccolta dei suoi casi e leggerteli sulla metro per poi intascattolo nella cartella e passare oltre e buttare via il fumetto quando l'hai finito perché la storia paradossalmente la storia degli uomini in nero è il filler è il vero filler della storia perché quello su cui punta Aoyama sono i casi quindi secondo me se volete capire veramente il manga dovete cercare di capire Conan poi chiaramente se volete una storia lineare non dovete assolutamente leggerlo perché non fa per voi però secondo me si butta troppa merda su Conan quando in realtà in Giappone è un personaggio iconico e anche per delle ragioni importanti poi potrei dire Topolino meglio di Paperino però ora questo questo magari non arriva questa è l'opinione in popolare questa è fa una cazzata no non è una cazzata mai nella vita potrei Topolino è il Paperino oggettivamente però non voglio possiamo dirlo allora dillo dillo allora innanzitutto se Walt Disney ha avuto successo e se Walt Disney ci ha fatto sognare ed è diventata la company multigenerazionale per eccellenza è tutto merito di Topolino Topolino era un alter ego di Disney che ha creato apposta per sfogare tutte le sue le sue robe perché Disney era un redneck folle che prendeva a calcio in culo gli animali lui ha preso Topolino l'ha fatto diventare una mascotte l'ha fatto diventare se stesso addirittura all'inizio lo doppiava lui quindi Topolino è diventata è diventato l'alter ego per eccellenza di uno dei più grandi creatori di sogni di tutti i tempi e poi soprattutto il problema tutto italiano anche questo di Topolino è che noi siamo abituati alla versione fumettistica di Topolino cioè Topolino che è vestito da investigatore comunque il cittadino americano che va a scoprire o italiano che va a svelare i misteri a arrestare i ladri quando in realtà non è mai stato un personaggio protagonista di un thriller Topolino era un pazzo sclerato che andava in giro suonava il pianoforte in mezzo alle foreste prendeva le scimmie le tirava tirava il collo alle galline faceva follie ed era un tornado vero e proprio era stronzissimo quei personaggi secondari che lo circondavano ed era protagonista di peripezia allucinanti poi a un certo punto Floyd Gofferson ha deciso di trasformarlo a poco a poco in un investigatore per dargli nuova linfa vitale addirittura il personaggio fumettistico diventò più popolare del Topolino cinematografico che è il Topolino che vi sto descrivendo adesso e cos'è successo Paperino che era nato in una silly symphony quindi in una in una serie di corti parallela ai corti di Topolino è diventato il sostituto perfetto di Topolino perché era non vi dico Topolino ma comunque andava a sostituire quel personaggio quel Topolino che era sempre il protagonista di gag comicità slapstick animazioni rubber hose cioè a tubo di gomma dove si allungavano le forme si distorcevano arti si allungavano colli e Paperino era diventato quello c'era diventato il protagonista di chip e chop gli tirano le ghiande nel viso sfortunatissimo protagonista di sventuri inenarrabili quindi va a sostituire un po' quella follia quella anarchia che per me avevano i corti di Topolino quindi Topolino è diventato sì un amico delle guardie e Paperino è diventato l'eterno secondo quando in realtà Topolino stesso era l'eterno secondo quando è nato e quando ha proliferato e ha fatto successo la Repubblica Americana quindi sì per quello dico che è meglio perché Paperino è diventato Paperino anche grazie all'influenza di Topolino che ha dovuto a un certo punto abbandonare il ruolo di pazzo di anarchico e ha dovuto abbracciare tornato a donare a Topolino questo spirito folle con i corti di Topolino moderni che infatti sono stati additati da tutti come roba alla Cartoon Network roba per Zoomer di merda roba del cazzo quando se te vai a paragonare un corto di Rudish a un corto degli anni 20-30 di Topolino è proprio è la stessa cosa ma modernizzata proiettata ai tempi nostri quindi stiamo attenti a bistrattare così tanto Topolino perché è stata la matrice di tutto di tutto insieme a altri pochi colleghi basta per questo secondo me Topolino è meglio di Paperino poi rispetto totale per Paperino perché comunque è un personaggio grandioso però allo stesso tempo senza Topolino ci sarebbe stato il dark void il nulla forse su Bleach vuol dire qualcosa Michele non lo so una mia un popular opinion su Bleach che deriva tantissimo da quanto io abbia apprezzato determinate caratteristiche dell'autore nel mezzo della sua totale incapacità di progredire in una storia è stato vivere senza vederlo mai davvero cadere nell'oblio in cui poi anch'io non sono più riuscito a evitare di credere fosse caduto è il secondo arco di Bleach la Ranker Arc quello degli Spada quello che utilizza lo spagnolo come metro diciamo di nuova onda di nemici di nomenclature eccentriche anche se è una ripetizione meno profonda del primo a me l'arco nell'ueco mundo di Bleach piace terribilmente forse anche perché comunque stavo scoprendo il manga stavo scoprendo l'animazione giapponese e quei sistemi che oggi sono tanto ridondanti e mulimici di quello che è lo shonen manga per me lì era la prima volta e la classifica di nemici da 10 a 1 che potesse essere incrociata in maniera dinamica e misteriosa dinanzi a personaggi che stavano scoprendo un gigantesco complotto del famoso Oh la Cording Keikaku per me era eccitantissimo poi lì è finita molto male però fino a un certo punto per me era elettrizzante cioè io mi ricordo quanto non avendo visto all'epoca non avendo mai letto e non conoscendo Yu Yu Hakusho che praticamente penso che sia la stessa cosa era la prima volta che vedevo certe meccaniche e quindi venivo elettrizzato l'antagonista che ti prende il più potente protagonista della storia quello che dovrebbe trascendere qualunque forma di potere di logica degli dei della morte e lo paralizza di paura alzando l'indice a me piaceva per il teatrale però no è figo e sono cose belle del manga queste che poi dividesimo in queste storie è bello esatto no più che altro dai praticamente quando accade che l'ho fatto guro a Yusuke sì ma ti va bene perché quello è il bello del manga cioè non cringi per cose che in un altro contesto ti avrebbero cringiato sicuramente quella teatralità tutta giapponese che però ti va bene in quanto giapponese va bene loro lo fanno è normale che sia così va bene così lo accettiamo lo abbracciamo e ragazzi è stato bellissimo mi sono divertito un sacco è stato veramente bello anche io da morire ma poi sono venute cose su cui non ce l'avamo venute fuori tipo topolino paperino assolutamente zero ma poi anche Naruto non me l'aspettavo insomma molto bello bella chiacchierata bello tutto fighissimo vero vero ci siamo stra divertiti e sono sicuro anche la chat si divertiranno un po' meno quelli su youtube ma è un problema loro vi sicuro non è nostro grazie ancora Michele grazie mille Domenico si si già finito ragazzi un altro giro è difficile ma è difficile per noi trovare qualcosa di un popolo ragazzi perché siamo ci siamo settati su della roba che comunque piace a tutti voi a tutti nel mondo penso quindi è veramente veramente difficile quindi mi dispiace poi ragazzi c'hanno anche cazzi loro neanche possono stare sempre vide via grazie Michele grazie Domenico grazie a te grazie a voi ciao 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 un bacione ciao 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 ciao